Almeno 10 forti esplosioni hanno scosso la notte di Kiev, tre i feriti abbattuti la maggior parte dei missili russi, i cui frammenti sono caduti in diversi distretti. La Russia, secondo le autorità ucraine, ha lanciato un attacco aereo notturno di intensità eccezionale sulla capitale, come non ce n'erano mai stati prima. Allerta massima in tutte le regioni. Progressi si registrano alla periferia di Bakhmut, in manno ormai per oltre il 90% delle forze di Mosca, con l'avanzata di circa due chilometri dei soldati ucraini. Mentre il capo della Wagner, Prykhojin, respinge le accuse mosse dal Washington Post di aver offerto informazioni al nemico sull'esercito di Mosca in cambio del ritiro degli ucraini da Bakhmut e si auspica che i corrotti siano impiccati sulla Piazza Rossa. Ieri un morto e diversi feriti in una esplosione all'UASC, tra cui il ministro dell'interno filo russo Cornet. Dopo le visite in Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna durante il vuolo che ha riportato a Kiev, Zelensky è tornato sul suo incontro in Vaticano con Papa Francesco, definendolo incoraggiante. Il presidente ucraino, oltre alla convinzione che il suo paese entro luglio farà parte della NATO, si è sonfermato anche sulla possibile controoffensiva. Dopo questo mio turno in Europa i nostri soldati ed il nostro Stato sono più forti. Torniamo con un nuovo pacchetto di armi per la nostra difesa, ha proseguito. Zelensky ha ottenuto in questo suo viaggio 3 miliardi di aiuti dalla Germania, nuovi carri armati dalla Francia, con Macron che si è reso disponibile per l'addestramento dei piloti ucraini per gli F-16, ma non per l'invio dei caccia. Così come il premier britannico Sunak, che oltre a promettere una nuova fornitura di missili e droni a lungo raggio, si è impegnato a lavorare ad una coalizione di paesi disposta ad inviare gli F-16 da combattimento richiesti da tempo da Zelensky. Oggi visita Kiev dell'inviato cinese Li, Ucraina alla centro dei dibattiti, anche a Reykjavik dove inizia il Consiglio europeo. Minsk intanto ha diffuso foto e video di Lukashenko, il presidente bielorusso da oltre una settimana per motivi di salute non appariva in pubblico. Potenti esplosioni hanno scosso ancora una volta decine di città in Ucraina. Su Kiev i russi hanno lanciato l'ottavo attacco dall'inizio del mese, un attacco di missili e droni di intensità eccezionale, dicono nella capitale le autorità militari. Secondo il Ministero della Difesa la contraerea ha respinto la minaccia e ha abbattuto anche sei missili ipersonici Kinjal. Il timore, però, è che i russi abbiano usato la parte più moderna del loro arsenale per individuare le batterie di Patriot schierate attorno a Kiev e distruggerle. Gli armamenti della Nato sono indispensabili per i piani del presidente, Vladimir Zelensky, che nel suo viaggio in Europa ha chiesto agli alleati 40-50 caccia F-16 e quest'oggi riceverà a Kiev l'inviato cinese Li Hui. I preparativi della controffensiva proseguono in particolare nel sud-est e a Bakhmut, nel Donbass. Gli ucraini avanzano lungo i lati della città, quelli in cui affrontano le truppe regolari russe, ma nel centro abitato continua l'avanzata del gruppo paramilitare Wagner. Questa battaglia è fondamentale per Zelensky. Una eventuale sconfitta metterebbe a rischio la sua stessa leadership politica. Nei palazzi del potere, a Kiev, neanche la guerra ha fermato lo scontro tra i diversi corpi dello Stato. Nelle ultime ore, gli uomini dell'anticorruzione hanno arrestato il presidente della Corte Suprema, Knyasev, con l'accusa di avere accettato tangenti da un garca per 2 milioni e mezzo di euro. Nell'inchiesta sarebbero coinvolti altri 18 magistrati. Knyasev, 44 anni, ha assunto l'incarico nel 2021. Doveva rappresentare il nuovo corso del paese. Sistemi d'arma per la controffensiva, essenziali per la difesa del paese dai bombardamenti russi e addestramento dei piloti ucraini per gli aerei da combattimento F-16. È il bilancio della missione europea di Volodymyr Zelensky, che si è conclusa con la visita, a sorpresa, nel Regno Unito, dove è stato ricevuto dal premier britannico. Sunak, che ha accolto il presidente ucraino non a Downing Street, ma nella residenza di Campania dei Chakers, dove, ha voluto ricordargli, Wilson Churchill pronunciò alcuni dei più importanti discorsi durante la Seconda Guerra Mondiale, gli ha confermato la fornitura di missili Storm Shadows e droni a lungo raggio. Nelle tappe europee, che lo hanno visto incontrare i rappresentanti dei governi francesi, tedesco e italiano, Zelensky non ha affrontato questioni relative solo alle forniture ai militari, ma anche diplomatiche. Questioni cruciali per il futuro del suo paese, come l'ingresso di Kiev nell'Unione o nella Nato. Ad ogni visita, ha commentato Zelensky, le capacità difensive e offensive dell'Ucraina si espandono e i legami con l'Europa si rafforzano. Nessun cambiamento di strategia, invece, per un incontro tra le parti è emerso dall'incontro con il Papa. Una posizione, quella di Zelensky, sostenuta del resto anche dai vertici delle istituzioni europee. Il punto di partenza, ribadito la Presidente della Commissione europea von der Leyen, è il piano di pace di Zelensky. Potrebbero, però, esserci novità della visita oggi a Kiev dell'inviato speciale per gli affari asiatici ed ex ambasciatore a Mosca, Li Hui. Sarà il funzionario cinese più alto in grado a recarsi in Ucraina dai tempi dell'invasione russa. Le mosse della diplomazia, però, al momento non fermano la guerra. Per tutta la notte sono suonate le sirene di allarme per gli attacchi missilistici russi. Tra gli obiettivi degli ultimi raid c'è anche la capitale. Almeno dieci le esplosioni, che al momento sembrano però avere provocato solo alcuni feriti.